ciao ragazzi benvenuti ragazzi alla ricetta di tony ragazzi questa è la seconda puntata per quanto riguarda il sushi ragazzi noi già qui abbiamo fatto i nostri futumaki che ve li faccio vedere in questo modo qua con la nostra alga nori quindi il futumaki lo faremo con un solo ingrediente o il salmone o il surimi quindi io in questo caso ora lo andrò a fare con con il surimi praticamente mi andrò a bagnare le mani qui nell'acqua acidulata con l'aceto andrò aggiungere un po del nostro riso che abbiamo fatto nella puntata precedente ho tagliato l'alga nori che era molto grande l'ho tagliato in due quindi andremo a mettere il nostro riso lo fodereremo con con la nostra alga la fodereremo con il nostro riso rimanendo un po di spazio qui sotto per poter arrotolare l'alga nori quindi la faremo con il salmone un po di wasabi che questo quel piccante giapponese e andremo a rotolare vi farò vedere questi futumaki come verranno fatti con un solo ingrediente quindi ok ragazzi un minuto solo e vi faccio vedere il riso steso sopra la nostra alga grazie allora abbiamo foderato in questo modo qua ora andiamo a mettere il nostro salmone e arrotoliamo il tutto vedete in questo modo con la stuola rivestita con della pellicola per non farla sporcare e vi faccio vedere ok rotoliamo e vi faccio vedere l'arrotolamento del nostro sushi qua ragazzi abbiamo messo il nostro pesce ora arrotoliamo vi faccio vedere il risultato finale del nostro sushi questo qua al salmone ok a dopo grazie voilà il nostro sushi abbiamo fatto ragazzi in questo modo qua l'abbiamo arrotolato quindi questa è una puntata che abbiamo fatto la nostra prima puntata poi ne faremo altre vedete il sushi non è molto non è molto complicato farle vedete tutti con il salmone c'è il wasabi all'interno quindi è avvenuto veramente un piatto molto molto buono quindi non vi ricordo l'alga nori la tagliate la arrotolate la fate in questo modo in questo modo qua in questo modo se poi faremo il california roll che è più grande con l'avvocato questo qua sono i futumaki con un solo ingrediente noi abbiamo fatto di salmone e l'abbiamo fatti di di surimi quindi ragazzi che dire un piatto orientale piatto giapponese quindi ragazzi abbiamo fatto questa ricetta e niente ragazzi al prossimo video quindi questa è la seconda puntata per quanto riguarda il sushi la prima volta che lo faccio mi è venuto abbastanza bene quindi da perfezionare un po' i metodi di arrotolamento però piano piano impareremo un po meglio quindi ragazzi al prossimo video sempre con le ricette di toni ragazzi che dire alla prossima ok ragazzi ciao ciao a tutti e al prossimo video ciao